Un bene comune, come è noto, è un modo di dire molto diffuso e molto vuoto di contenuto preciso. È la classica formula politica per dire che si sta facendo le cose bene, ma nessuno sa esattamente quale sia questo bene. La cosa, mi pare, abbia un pregresso da considerare, e cioè il fatto che noi facciamo fatica a intendere questa antica formula perché in realtà non ci è esattamente più chiaro cosa sia il comune. Ogni tanto questo riemerge, che cosa abbiamo in comune. Sentiamo il disagio di qualcosa di fondo che manca. Ma è anche vero che le risposte che in genere si danno a questa mancanza, o la speranza che si ripone, è fondamentalmente, io credo che si possa capire facilmente da tutti, è un universale astratto. Quando noi diciamo che cosa abbiamo in comune, oggi diciamo la cittadinanza, i diritti umani, la libertà, un regime democratico e via dicendo. Cioè delle cose che hanno la loro evidente importanza, ma che se ci si riflette sono appunto delle procedure fondamentalmente, delle procedure astratte che sono poi riempite inevitabilmente di qualunque contenuto. Allora è chiaro che questo è importante per vivere insieme, certo, ma non può essere il fondamento del vivere insieme. Detto in altri termini, noi siamo ancora figli dell'illuminismo, che pensava appunto che mettendo insieme gli uomini per alcuni grandi ideali universalissimi, si potesse così fare, realizzare un mondo diverso. Solo che appunto lo stesso illuminismo ha evitato poi di coltivare, non ha potuto coltivare, l'ultima parola delle sue famose uguaglianza, libertà, era la fraternità. Ecco, l'idea di fraternità ci suggerisce cosa potrebbe significare il comune. Il cardinale Scola, spesso evidenziando che viviamo in una società plurale, dalle mondovisioni diverse, quindi dove ci si incontra e ci si scontra, tendenzialmente c'è conflitto, parla di filia. Secondo la nota definizione di Aristotele, che potremmo tradurre con amicizia civica, secondo lei come essere edificatori di questa amicizia? Il concetto di amicizia in Aristotele è molto elaborata e sta a significare che nella sua essenza l'amicizia è avere in comune un bene perché questo bene è bene, non per scopi ulteriori. Aristotele oggi c'è anche utile perché non era cristiano, quindi immediatamente non pensava a Dio. Ma che cosa pensava? Pensava mettere insieme le cose migliori della vita, mettere insieme le cose importanti dell'esistenza umana, ciò che fa l'uomo uomo. Ecco, allora, su questo naturalmente il dibattito per noi è aperto, però quello che noi sicuramente possiamo recuperare con buonsenso e ragionevolezza piena è che se vogliamo non semplicemente coabitare, si può anche coabitare come separati in casa, come si suol dire, ma vogliamo convivere, allora dobbiamo ritenere innanzitutto che sia cosa buona essere insieme. Questo essere insieme ha bisogno di quella vita buona per cui sono stati promossi i dialoghi. Sì, perfetto. Infatti, questi dialoghi sono in atti, quella iniziativa del Cardinale, esattamente sulla base di una certa amicizia con persone di vario rango e di varia provenienza. Cioè è messa in atto esattamente un'idea, come stavamo dicendo, ovvero sulla fiducia di una bontà dell'essere insieme, cercare le ragioni poi di questo essere insieme. sapendo che queste ragioni sono anche differenti. E allora si tratta di saggiare intanto nella differenza che cosa c'è di comune e quello che non è accomunabile come può convivere. E questa dialettica, pensa, sia quella che può reggere oggi in una società plurale come quella in cui siamo. L'alternativa è inevitabilmente un fondo di conflitto che prevale su tutto e che è una tentazione che la nostra storia, del nostro paese conosce abbastanza bene e una prospettiva che può diventare di guerra civile, cioè dove il civile comune non è più considerato bene. Ne abbiamo un tragico esempio dopo il 1943 e sappiamo bene che cosa può voler dire. E questo è il pericolo che anche insidia tutta l'Occidente e l'Europa in particolare.